Io vorrei descrivere il Tour Music Fest con una semplice parola, professionalità, ecco, professionalità, correttezza e serietà quindi. Credo che è il contesto in Italia migliore in assoluto, anche perché basta vedere chi c'è alla giuria, basta vedere i consigli, ascoltare i consigli che danno. È stato bellissimo. È stata veramente un'esperienza pazzesca, lo staff è fantastico, sono tutti iper gentili, ho conosciuto un sacco di artisti fantastici, ho detto quattro volte fantastico, ma non viene altre parole in mente in questo momento. Si crede realmente nell'artista, in ciò che può dare, quindi si prova a tirarli fuori il meglio semplicemente standoli vicino e rispettandolo e non pretendendo cose che oggi purtroppo si pretendano sempre di più, ma magari sono poco consone all'artista stesso. Invece qui si ha la possibilità di ognuno esprimere la sua musica come meglio crede e si viene anche apprezzati per questo, quindi è una cosa molto molto bella. C'è tanto amore per quello che poi è l'obiettivo del Tour Music Fest, c'è un'ottima organizzazione che purtroppo in Italia, poi all'estero non lo so perché non ho mai provato, però quantomeno in Italia non se ne trovano così ben organizzati, precisi, cioè la puntualità qui è meravigliosa, arrivi alle fasi di selezione e c'è le persone così che parlano, entra, esce, entra, è bellissimo, cioè non c'è da nessuna parte. Quindi insomma fa piacere vedere che comunque il lavoro che noi portiamo in questi ambiti viene apprezzato e c'è lo stesso feedback positivo perché c'è altrettanto impegno dall'altra parte ed è importante. Ed è veramente una bella esperienza. Molto molto positiva, soprattutto perché nella prima fase, dopo l'audizione, mi hanno fatto i complimenti, mi hanno fatto le critiche che io stesso mi faccio sempre, quindi hanno subito visto bene quello che c'era da migliorare. Qui ho avuto l'opportunità comunque di mettermi non solo a confronto con gli altri miei colleghi, ecco, diciamola così, ma proprio con me stessa per via anche dei consigli dati da tutto lo staff. Mi ha dato una grande possibilità e soprattutto una grande carica. Beh, il Tour Music Fest secondo me è una grande opportunità per tutti quelli che come me scrivono le proprie canzoni, compongono i propri pezzi. Sono stato molto felice di poter sperimentare su di me e anche sulla gente che ascolta quello che faccio. Una bella occasione di far ascoltare la propria musica proprio per l'attenzione che c'è nei confronti della musica inedita che è una cosa importante perché nel momento in cui qualcuno scrive qualcosa e questa cosa viene considerata, viene messa in primo piano, beh, questa è una gran bella cosa. Tanta professionalità e molta voglia di trovare davvero qualcosa di nuovo, soprattutto parlo per me, per la categoria dei cantautori. Ho visto anche la giuria molto interessata, quindi è bello perché vedono migliaia e migliaia di ragazzi ogni anno e quindi mantenere viva la fiamma penso che sia sempre una grande dote, una grande capacità. È un festival pulito, ben organizzato, cioè tutto lo staff è una cosa fantastica, rispettano gli orari, cioè ti convocano, che ne so, alle 9, ti dicono che alle 9.50 te ne vai oppure che cominci e succede quello incredibilmente. Si prendono cura di te come in poche altre parti fanno. Io lo consiglio perché qui ci sono persone veramente forti. Beh, è stata un'esperienza fantastica, specialmente per il lato umano che c'è dietro. Mi sono trovato davvero bene, un'organizzazione fantastica e comunque ti fa provare dei palchi che ti lasciano qualcosa, ti danno un'esperienza non indifferente. La prima volta in vita mia in cui ho partecipato a qualcosa e non ho dovuto aspettare ore per fare un'audizione o qualsiasi cosa. Quindi è stata decisamente positiva e poi sono tutti molto gentili, molto tenere e carini. Sicuramente è un'esperienza molto positiva. Positivissima Tutte persone che non ti mettono ansia, anzi ti incoraggiano, ti incitano e è bello insomma avere comunque supporto in ambienti come questi. Come lo staff, come il concorso, tiene veramente alla musica. Tiene alla musica, tiene a noi cantanti, tiene alla vera musica. È stata un'emozione fortissima. È tutto molto bello e soprattutto formativo. Sono veramente organizzatissimi e inoltre offre grandissime attività molto utili per chi vuole intraprendere questo tipo di carriera da grande. Il rispetto per ogni artista, che non tutti hanno, e anche la professionalità e il fatto che ognuno sia competente in questo settore. Ho trovato veramente una grandissima, grandissima attenzione che è rara, rarissima. Ti senti proprio accolto a livello umano e questo è meraviglioso. Fantastica, unica, inimitabile, onesta, organizzatissima. Ben organizzata, staffa incoraggiante, professionale. Sì, sì, bellissima.